italiani che giustamente boicottate i prodotti di profumeria dei paesi sanzionisti ecco una coltivazione e un'industria di carattere prettamente nazionale che fruttano un olio essenziale dal profumo squisito quello del bergamotto varietà di arancio amaro che ha bisogno del nostro sole per maturare e dalla cui buccia profumatissima si ricava l'essenza indispensabile alle colonie più fini e utilissima anche nel campo farmaceutico come disinfettante la lavorazione del bergamotto si fa d'inverno presso le 1500 aziende agricole in cui è suddivisa questa coltura che copre circa 2500 ettari con un milione di piante ed occupa varie migliaia di coltivatori 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 Grazie a tutti.